Il Tonino Mazzuca, il campo del Rugby Rende, ha ospitato lo spareggio per aggiudicarsi la Serie B tra Cuscatania e Rugby Arechi. Un motivo di soddisfazione in più per la società ovare bianco-rossa che bene sta facendo per far crescere il movimento della palla ovale nell'area urbana cosentina. Un'altra giornata importante di rugby al Tonino Mazzuca, diciamo che sta crescendo la sensibilità intorno alla nostra squadra e al nostro campo. Questo merito soprattutto degli sforzi di tutta la società e soprattutto della sensibilità del nostro sindaco che ci è molto vicino in questa nostra opera. Siamo anche ben contenti di ospitarli non solo in quanto terreno di gioco ma abbiamo attrezzato per loro anche tutta l'ospitalità e il ricevimento per il terzo tempo dopo la partita organizzato dai nostri giocatori, dai nostri ragazzi. Li invitiamo perché stanno giocando una partita che spero che prima o poi giocheremo anche noi, una partita importante, uno spareggio per andare in Serie B. Alla fine il match tra il Cuscatania e l'Arechi Salerno se le ha giudicato il 15 Catanese che si è in posto con il punteggio finale di 20 a 6. Dopo la amara retrocessione immeritata della scorsa stagione questo gruppo di ragazzi ha dimostrato di meritare la categoria superiore. Oggi è stata veramente una grande partita e abbiamo assistito alla perfetta integrazione di un gruppo di ragazzini under 18 con i ragazzi più grandi. Oggi devo dire che sono stati veramente protagonisti in campo. L'onore al Salerno, alla Rechi che è una squadra molto attrezzata, molto pesante fisicamente ma oggi abbiamo visto tutti che soprattutto dal punto di vista fisico, come avevo detto all'inizio partita, non avremmo temuto nessuno. Una compagine, quella siciliana, molto più fisica ed atletica che appena ha avuto l'occasione è riuscita ad andare in meta e gestire l'incontro fino alla vittoria finale. Abbiamo tenuto i nostri avversari sempre all'interno della loro metà campo, ho registrato un circa l'80% del possesso a nostro favore, abbiamo colpito cinicamente quando era il momento di colpire.